Ciao a tutti ragazzi, nuovo unboxing, mettiamo davanti i guanti per Pippo per la partita di Venedì Vi ho spoilerato una cosa importante, la partita di Venedì, vi do appuntamento nel mio canale per vedere come va la partita Mi è arrivato cosa? L'alimentatore della PS2 L'ho acquistato per la PS2 di Venedo D'Antonio che è là sotto, che senza alimentatore è a posto Ragazzi, possiamo riportare finalmente i gameplay su PS2 Plastica diversa da quella della PS2 Sembra vuoto Lo proverò stasera perché ragazzi stasera siamo a mercoledì, ricordo stasera ci sarà un'altra sorpresa per voi Stasera giochiamo con i ragazzi a casa qui sulla mia postazione e ci sarà anche un'altra sorpresa ancora Ci siete piene di sorprese ragazzi Io ragazzi vi saluto, questa è una cosa importante che aspettavo da molto ma molto tempo L'alimentatore di PS2, si ragazzi, finalmente si gioca con PS2 Qui abbiamo lo scontrino Pagato 13 euro A Napoli preso Va bene ragazzi, ad un prossimo video, bene ragazzi E' un prossimo video, bene ragazzi